buonasera benvenuti a una nuova puntata di veronesi protagonisti questa sera ospite nei nostri studi di via torricelli 37 paolo ferrarese presidente di confagricoltura verona benvenuto presidente grazie buongiorno lei è stato eletto la prima volta nel 2013 ha già fatto un mandato di quattro anni ed ha iniziato un secondo mandato quindi davanti ancora tre anni insomma tra male dell'esca tra cimice asiatica e altri insetti che sembrano infestare anzi infestano i nostri campi insomma le minacce per gli agricoltori sono tantissime negli ultimi periodi infatti non ci facciamo mancare niente perché questo forse è quello che è successo con questa globalizzazione esageratamente forzata che oltre a portare qua molti prodotti da tanto lontano prodotti anche molti insetti molti animali che prima non esistevano e che oggi entrano in concorrenza fortissima con gli insetti parassiti autotoni che non riescono a contrastarli quindi cimice asiatica quindi del rofila suzuki ricordo anche fra i mammiferi più grandi la nutria e poi altre 300 specie che sono arrivate sul nostro territorio da posti molto lontani c'è sempre stato insomma il rischio che qualche insetto rovini il raccolto però c'è stata un'intensificazione o sbaglio del numero proprio di insetti infestanti l'intensificazione è stata molto molto forte qui vorrei ricordare solo la drosophila suzuki sull'uva e la ciliegia e la cimice asiatica sulla pera sulla mela sul nocciolo ma soprattutto sulla soia e il mais che quest'anno ha prodotto danni impressionanti ci sono molti convegni se ne sta discutendo anche per trovare delle soluzioni a cosa si sta pensando ho sentito parlare anche di un'app giapponese una cosa del genere sì allora la situazione è molto complessa ci sono possibilità di salvaguardare i propri raccolti se si parla di colture arbore attraverso delle reti anti insetto che sembrano essere le uniche ora a poter contrastare la cimice asiatica certo non risolverà non risolve il problema perché è molto più facile immaginare che ci sia un equilibrio biologico che si auto formalizzi attraverso degli insetti antagonisti se noi andiamo ad osservare quello che è successo prima in indocina paese da qui poi è arrivata questa specie e poi in america 12 o 13 anni fa dove ha cominciato a fare guai grossi e da tre anni in italia verifichiamo che nei primi paesi ha trovato un equilibrio grazie degli insetti antagonisti che ne vanno a mangiare le uova e che ne vanno a mangiare anche gli adulti qua gli antagonisti ancora non ci sono e quindi il problema diventa grosso anche per quello ci sono allo studio almeno tre quattro specie di antagonisti di insetti che divorano le uova di questa cimice un paio sono autoctoni e sono purtroppo quelli che sembrano dare le minori possibilità di di contrasto un paio invece sono di paesi estrae europei questi non possono essere liberati sul nostro territorio per una legge che vieta la liberazione di animali all'ottoni che vengono da fuori dalla comunità quindi sarà bisogno di un periodo di quarantena verificato questo soprattutto per il più interessante che ha una vespetta si chiama la vespetta samurai che proviene dallo stessa zona da cui poi è arrivata la cimice asiatica ecco per questo insetto c'è bisogno di un periodo di studio perché potrebbe essere nocivo per l'equilibrio di di altre in altre situazioni per cui passato questo è possibile è probabile che sia che avvengano delle liberazioni tra l'altro c'è molta preoccupazione perché oltre al danno ovviamente legato al prodotto c'è anche un danno di tipo economico sono già centinaia di migliaia di euro andati in fumo per questo beh io direi che centinaia di migliaia di euro sono estremamente pochi perché oggi ero un convegno della camera di commercio qui a verona e quei due miei compagni di banco da soli noi tre abbiamo sommato un danno di 170 mila euro quindi sulla soia in certe situazioni è stata veramente devastante sulla pera in certe situazioni ha fatto un danno del 60 70 per cento sulla mela del 20 sul mais è meno facile da calcolare ma anche lì qualche cosa ha inciso si tratta di veramente di tanti milioni di euro e se non si arriva ad avere una situazione di equilibrio chimica biologica meccanica veramente ci saranno aziende in fortissima difficoltà perché già deboli di loro nei prossimi anni a gennaio con fabricoltura verona sarà impegnata in un nuovo convegno che indagherà sul rapporto tra chi produce e chi consuma quindi il consumatore cosa affronterete in questo convegno abbiamo appena trattato in un altro convegno molto tecnico un mare antico che è il mal dell'esca che è un mare che colpisce la viticoltura verona ma in italia in tutto il mondo è un convegno molto tecnico che ha rivolto che era rivolto soprattutto e solamente agli esperti e ai coltivatori di vite abbiamo in programma invece per gennaio un convegno molto più aperto e non tanto agli agricoltori ma al pubblico che vuole dimostrare quale sia e quale dovrebbe essere il rapporto fra chi produce chi commercializza e chi consuma prodotti delle nostre della nostra agricoltura dei nostri allevamenti in modo che si possa avere si possa dare un'esperienza più scientifica che bucolica di quanto venga fatto nelle nostre aziende questo perché osserviamo in molti casi c'è una situazione veramente diciamo non accettabile su certa pubblicità e su certe informazioni che vengono date in modo assolutamente e scientificamente illegittimo sta andando di moda ad esempio il prodotto bio ma diceva prima che non tutti rispettano le regole che si dovrebbero rispettare per definire un prodotto biologico allora noi abbiamo molti soci in confaricoltura che si occupano di biologico quindi è un argomento da trattare con molta cautela certo è che a noi piace dire vorremmo rappresentare chi il biologico lo fa seriamente e in modo lecito dico questo perché in molti casi il biologico non viene coltivato in questo modo ma viene coltivato magari da furbacchioni che approfittano di un trend molto positivo per questi prodotti e se ne avvantaggiano in modo illegale io ricorderei anche che il biologico non vuol dire prodotto coltivato in modo naturale così come si poteva pensare di coltivare 300 anni fa ma vuol dire coltivare un prodotto allevare degli animali seguendo un disciplinare che sancisce la possibilità di usare certe molecole certi accorgimenti ne vieta delle altre non è detto che il prodotto biologico sia sempre più naturale del convenzionale ossia sempre più buono del convenzionale perché molte volte il prodotto biologico molte volte sempre prodotto biologico usa molecole antiche nella vigna sul fatto di rame lo zolfo altre sostanze che vengono che comunque sono metalli pesanti che vengono usati in quantità notevoli quindi evita la possibilità di usare prodotti di sintesi che molte volte sono quelli che la scienza ha prodotto negli anni per migliorare la qualità del prodotto quindi magari dei rischi delle tecniche del passato infatti cioè se uno crede all'evoluzione la possibilità che la scienza dia delle risposte migliorative rispetto a quello che è stato io credo che debba anche considerare il fatto che molte volte il marketing quindi a porre sull'etichetta prodotto bio non significhi esattamente che questo è migliore del convenzionale e prodotto secondo altre tecniche che sono tecniche di una volta ha un suo target è molto di moda è giusto che questi signori che hanno bisogno di fare molti più sforzi di altri per ottenere questo prodotto guadagnino di più ma è anche altrettanto giusto sapere che dietro a questi signori ce ne sono altri che con gli stessi sforzi che vengono compiuti in agricoltura convenzionale guadagnano la stessa cifra Senta Presidente lei ha iniziato a lavorare in questo settore da giovanissimo e in agricoltura da più di 40 anni ha osservato proprio un trend legato al settore primario quindi all'agricoltura che anni sono stati gli ultimi in particolare ma rispetto magari a un decennio fa è cambiato molto è cambiato il modo di fare agricoltura per i piccoli coltivatori o allevamento Io direi che è da 40 anni che l'agricoltura cambia tutti i giorni in modo assolutamente più veloce di quanto magari lo si pensi e questo avviene perché da tanti tanti anni siamo costretti a migliorare le nostre performance a migliorare le nostre attività agricole perché altrimenti la redditività che è sempre in calo non ci prometterebbe di sopravvivere quindi se si parla di innovazione l'agricoltura io credo possa dimostrarne assolutamente la grandezza con cui è cresciuta senza migliorare assolutamente la redditività anzi molte volte indebolendo le nostre aziende se andiamo ad osservare il numero delle aziende presenti sul territorio queste sono assolutamente sempre in calo se poi parliamo di allevamenti, la vacca da latte, il suino, anche il bovino da carne si è di molto ridimensionato come numero e si sono allargate le stalle quindi tutto questo lascia a pensare appunto che abbiamo dovuto migliorare sempre attraverso la tecnologia, attraverso l'intensibilizzazione, attraverso la professionalità il nostro lavoro purtroppo senza avere una risposta dal punto di vista economico siamo certamente molto più deboli dal punto di vista finanziario, dal punto di vista economico di quanto lo fossimo anni fa andiamo in chiusura di questa chiacchierata diceva insomma che è più difficile fare agricoltura in tutto questo contesto l'Europa che ruolo gioca perché l'Europa sembra investire invece o avere tra i primi obiettivi l'agricoltura un impatto anche economico, un aiuto nei confronti del settore agricolo certo, allora il ruolo che l'Europa gioca e che ha giocato è alla base delle nostre criticità certamente il bilancio della comunità europea è sempre stato rivolto all'agricoltura che attraverso la PAC, attraverso dei sussidi che vengono dati agli agricoltori che sussidi non sono ma sono integrazioni ad un prezzo, a dei prezzi che sono stati mantenuti nei decenni bassi per favorire l'approvvigionamento delle materie agricole da parte dell'industria e direttamente da parte del consumatore quindi non è un sussidio ma è semplicemente un'integrazione a reito di cui gli agricoltori oggi per esempio non potrebbero fare senza PAC le aziende muoiono e chiuderebbero un'osservazione sulla comunità europea noi non siamo, la agricoltura assolutamente non è anti-europeista anzi però è molto critica rispetto a questo modo di fare Europa cioè un'Europa incompleta che ha iniziato il suo lavoro partendo da una moneta unica ma non l'ha assolutamente completato andando a omogenizzare i trattati, a omogenizzare le regole a omogenizzare anche i costi, la fiscalità che ogni paese mantiene assolutamente autonoma quindi noi abbiamo una situazione in Italia abbastanza pericolosa perché abbiamo gli stati più bravi, gli stati più buoni, più organizzati del nostro come la Francia, la Germania, la Francia ma anche la Spagna che ci fanno una concorrenza molto forte perché sono molto più bravi di noi nella logistica sono molto meno penalizzati di noi sull'aspetto tributario hanno anche situazioni di ampiezza aziendale media molto superiori alla nostra ci fanno una concorrenza spietata soprattutto in questo momento la Spagna dall'altra parte abbiamo i paesi dell'est paesi dell'est che non osservano assolutamente il minimo disciplinare che sono assolutamente liberi di fare quello che vogliono anche nell'uso di quello che gli ignoranti chiamano pesticida ma che io chiamo agrofarmaco sono assolutamente liberi di pagare alla gente un euro, un euro e mezzo all'ora e ci fanno una concorrenza spietata su culture dove noi eravamo assolutamente primi come la mela per esempio tanto per dire una cosa ma anche sugli allevamenti quindi noi siamo in mezzo né carne né pesce né bravissimi come i primi che ho detto né economicissimi come i secondi e la nostra agricoltura soffre molto questa situazione perché l'Europa come ripeto non è un'Europa compiuta ma è un'Europa assolutamente basata semplicemente su un euro che ci uniforma senza uniformare il resto però abbiamo le spalle larghe dai Presidente quindi confidiamo anche nella capacità degli agricoltori italiani di uscire ovviamente dalle situazioni anche più difficili ringraziamo Paolo Ferrarese Presidente di Confagricoltura Verona per questa chiacchierata e in bocca al lupo per la chiusura dell'anno 2018 e l'inizio del 2019 io ringrazio lei e ringrazio la sua organizzazione perché so è sempre stata molto vicino all'agricoltura la ringrazio anche per l'ottimismo che mi vuole infondere ottimismo che avrebbe una sua validità se uno Stato, se una comunità europea se il complesso di queste due grosse entità d'essere all'agricoltura italiana la possibilità di fare il proprio lavoro senza dedicarsi troppo alla burocrazia alle carte e all'invenzione di cose di cui probabilmente tutti volevamo fare assolutamente a meno grazie di nuovo a Paolo Ferrarese Grazie a tutti Grazie a tutti